Incontro al Viminale oggi sulla sicurezza Orafa resosi sempre più necessario anche alla luce degli ultimi furti. Il prefetto Maddalena De Luca insieme ai rappresentanti della consulta Orafa ha incontrato il sottosegretario all'interno Nicola Molteni, il capo della polizia Vittorio Pisani e il direttore centrale dell'anticrimine Alessandro Giuliano per affrontare la questione della sicurezza delle imprese del settore. Presente anche l'onorevole Tiziana Nesini. Al centro dell'incontro la richiesta di misure preventive migliori per innalzare il livello di sicurezza per il distretto. Dopo un'attenta disamina della situazione attuale delle misure in campo è stato deciso di dare un importante impulso alla risposta dello Stato, spiegano dalla prefettura retina, con l'impegno di potenziare anche l'attività investigativa e di inviare ad Arezzo un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza con l'incarico di redigere una mappatura puntuale del contesto produttivo di riferimento per un miglior coordinamento delle azioni di prevenzione. Sarà anche garantita senza limiti di tempo e fino a cessate esigenze la presenza di speciali reparti della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, i quali, peraltro, già da qualche giorno stanno operando nella provincia in supporto alle forze di polizia. È stato inoltre preso l'importante impegno ad attuare nel quadro generale un rafforzamento degli organici delle stesse forze di polizia che tenga in considerazione la specificità del territorio aretino caratterizzato appunto dalla presenza del primo distretto orafo in Italia e in Europa. Riunione soddisfacente, confermano ancora i presenti, che ha riaffermato la volontà delle istituzioni di affrontare concretamente la questione per dare una risposta tangibile ed efficace agli imprenditori e all'intera comunità aretina.